Musica 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 Anima mai perso si trova noite, ed oltre le barriere si ferono e torna sicuro. Anima mai perso si trova noite, ed oltre le barriere si ferono e torna sicuro. Anima mai perso si trova noite, ed oltre le barriere si ferono e torna sicuro. Anima mai perso si percorrere, per continuare ad essere nella storia testimoni incredibili dell'amore di Dio per ogni uomo e per tutto uomo. Io ho solo il compito di moderare l'incontro, adesso passo la parola al Presidente della Fundazione Centro Culturale Pomo VI, poi seguirà la relazione di sua eminenza. E' un brevissimo dibattito con degli incontri, con delle domande già programmate. E' un segretario del Comitato Centrale del Grande Giubileo del 2000, e può quindi offrirci la sua testimonianza di protagonista dell'evento del Pilario. Ai segni tradizionali del Pilario, quali i pellegrinati, la portasanta e l'indigenza, il bea manca con forza l'impegno educativo di diocesi, la fronte e l'associazione. Non sfugge l'attualità dell'argomento, un tempo in cui gli stessi presupposti dell'educazione vengono messi in discussione, e si vada nella relazione di tempi di emergenza, dei valenti del popolo di Dio, ed anche gli uomini per la vita di buona volontà. L'appuntamento di oggi vede presente tra gli altri, i rappresentanti nelle varie varie, perché il nostro Vescovo ha voluto che con questo convegno, signale orasse, l'anno pastorale. La diocese di la mezzaterna ha vissuto lo scorso 9 ottobre il grande dono della visina pastorale del Santo Madre Benedetto XVI. E l'incontro di questa sera si può considerare un approfondimento culturale del percorso indicatoci dal Pilario. Un bel sentito, sincero, vero? Un ringraziamento. Grazie a tutti. Un ringraziamento culturale a tutte le autorità civili, militari, il Presidente della Regione, tutti voi, il Sindaco. Ecco, non vi conosco per la prima volta, ma insomma, ritenetemi salutati tutti quanti uno per uno con grande cordialità. Ecco, questo argomento è certamente qualcosa che mi ha toccato, potete immaginare, per quanto ho potuto, quel tanto che si è potuto fare, per tutto il lavoro del giubileo, del grande giubileo del 2001. Il primo giorno, entrato nella porta Sanferro, le ultime ore, avevamo fatto un percorso serpentino, proprio per dare uno spazio, per metterla. Allora, il nostro padre dice, vedi? E' quello che voleva, e come voleva questo giubileo, perché lui l'aveva architettato, eh? un grande architetto, cinque anni prima, tre anni di preparazione, ognuno dedicato alle tre persone fine, poi la celebrazione, poi l'occova bene, e di così Padre Santo ci è voluto nella Chiesa, nella società di oggi, questo giubileo, dopo ormai dieci anni dalla sua conclusione, è soltanto un bel ricordo di un importante, certamente, ma potrebbe essere un evento da dare, ecco come vi dicevo, l'ho vissuto questo giubileo, l'ho vissuto profondamente perché ho cercato di mettermi in questo itinerario che il Santo Padre aveva segnato, che seguiva giorno per giorno, non c'era giorno in cui non ci si incontrava per vedere anche le difficoltà che si dovevano incontrare, era evidente l'importanza, non era solo un secolo che terminava, era un millennio che finiva, quindi un trapasso storico, un trapasso per cui, ecco, lui Giovanni Paolo II sentiva l'urgenza di dare alla Chiesa un qualche cosa che la spingesse nel terzo millennio, nel nuovo millennio a vivere con profonda responsabilità il cammino che la Providenza ha segnato. Grazie. Grazie.